Nelle puntate precedenti l'abbiamo vista partire all'attacco. Adesso le devo fare una domanda impertinente da Bignardi. Affondare il colpo senza pietà. E pensa di essere mediocre. Indagare con grinta e coraggio. I politici si rendono conto. In cerca della verità. Caso Rubi è chiuso o resta una cosa da chiarire? Siete pronti al suo prossimo arrembaggio? Con lui parleremo di masturbazione, quindi... Ale, ale, ale! Le invasioni barbariche. La nuova stagione da sabato 22 alle 21 su Lei.